Ciao a tutti, Ammadi Agrebi, ispettore e formatore dei docenti tunisini di lingua italiana. Un caloroso saluto dalla Tunisia. Ho voluto lanciare questa iniziativa con la speranza che si adiriscano tanti per rendere omaggio al genio umano e al grande spirito enciclopedico, quello di Leonardo da Vinci che abbiamo appena festeggiato il 15 aprile il suo compleanno. E per fare un ripasso delle sue più belle e ingeniose invenzioni ho avuto in mente di lanciare un'iniziativa che consiste nel completare una frase ed è la seguente, chi dice Leonardo dice puntini puntini. Quei puntini ovviamente saranno completati da voi con un breve commento di tutto quello che vi viene in mente, di quello che ha fatto di tutto quello che ha fatto Leonardo, che mette in evidenza la grandezza del nostro genio. Ho voluto partire dalla verità, una cosa che ha attirato la mia attenzione, è la biografia dell'immortale genio dell'umanità scritta da un altro grande artista del Rinascimento e raccontato da Giorgio Vasari. Ve la leggo che mette in evidenza tanti di quei talenti del nostro genio. Quindi eccomi nelle veste di Leonardo da Vinci, portando gli occhiali ovviamente, vi leggo subito quello che ha scritto sulla mia persona il Vasari. E non solo esercitò una professione, ma tutte quelle ovi il disegno si interveniva e avendo un intelletto tanto divino e meraviglioso che essendo buonissimo geometra, non solo operò nella scultura, facendo nella sua giovanezza di terra alcuni teste di femmine che ridono, che vanno formate per l'arte di gesso e parimente teste di putti che parevano usciti di mano di un maestro. Ma nell'architettura ancora fei molti disegni così di piante come d'altri edifizi e fu il primo ancora che Giovanetto discoresse sopra il fiume d'Arno per metterlo in canali da Pisa a Fiorenza. fece disegni di Mullini, Qualchiere e Ordini che potessino andare per forza d'acqua e perché la professione sua volle che fosse la pittura, studiò assai in ritrar di naturale e qualche volta in far medaglie di figura e di terra e addosso a quelle metteva cenci molli interrati e poi con pazienza si metteva a ritrarli sopra a certe tele sottilissime di renza o di pannellini adoperati e li lavorava di nero e bianco con la punta del pennello, che era cosa miracolosa, come ancora ne fa fede alcuni che ne ho di sua mano. In sul nostro libro di disegni, oltre che disegno in carta, con tanta diligenza e si bene che in quelle finezze non è chi vi abbia aggiunto mai, che non ho io una testa di stile e chiaroscuro, che è divina ed era in quello ingenio infuso tanta grazia da Dio. È una dimostrazione sì terribile, accordata con l'intelletto e memoria che lo serviva, e col disegno delle mani sapeva, si bene esprimere il suo concetto, che con i ragionamenti vinceva e con le ragioni confondeva ogni gagliardo ingegno. Ero così. Leonardo da Vinci, ho voluto iniziare questa iniziativa proponendovi un po' un ritratto di Leonardo da Vinci fatto da Giorgio Vasari. Grazie, un abbraccio a tutti voi e a presto. Ciao. Grazie.